ciao ragazzi oggi siamo tornati sul canale bigomani metto caruso e ora tocca antonio mette guardarla chi c'è tu non sei ancora iscritto al canale non ti scrivi ento 5 secondi non ti scrivi ento 5 secondi manderò l'uomo nero a casa tua l'uomo nero l'uomo nero qui c'è antonio ciao non so cosa sto facendo l'uomo nero il coetino e anche tu sei incredibile non andiamo ok ora che si parte ragazzi oggi è il party di notte fai andò e parti di notte fai andò a scasso tavola l'uomo nero 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 adesso andiamo dai che? io dico dai domani e tu dici bene no andò no 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 dopo ok no andò no si dopo si dopo si dopo si no dopo si ho detto no ragazzi ragazzi qui ci sono gli asine ma perché vai sempre a vedere cose i panini natanio vamo alla friendly qui c'è un maiale piccolo picco caprette con galline giapponesi e la gallina! andò facci vedere come si fa la gallina sembra più uno scemo ahahahah ma non faccia di lui sono le vai ma sei non devo dire la banda tele... ...bravooo ma che bravo ma è che il suo pezzo fa squirtere troppo allora andiamo a vedere ragazzi qui agia qui maiali questi sono maiali mini mini poni sono maiali sono poni sono maiali che entrono cavalli scusatemi quando che hai fatto? che faccio? ho ancora un uccinetto un uccinno che sembra un uccinno il uccinno è proprio una bomba facciamo la guavia faccio la guavia faccio la guaglia a tutti i pali faccio la guaglia a tutti i pali faccio la guaglia fogge troppo antonio ecco vi farò vedere un nuovo esemplare aspetta voi farò vedere un nuovo esemplare di scemmolenno eccolo qua guardate un animale guarda l'abbero ti dico io quando vuoi farmi vedere ok vai sto guardando l'abbero sto guardando questo sto guardando le pietre sto guardando una musca bella realtà ta ta mannaggiatta guarda che c'è quindi la la detto non sembra di scemmolana è una specie molto rara è una di comune perchè si è in tutto il mondo questa specie a a andiamo a a qui sono quaglie quaglie giapponesi non ci sono quaglie cinesi giapponesi scusatemi andè basta no no mi demonizzano il video già sei mezza maglietta che hai detto be aspetta sveglia e che sveglia e sveglia sveglia e mando a donna guarda perchè ma aspetta devo fare che mangia amico loro 15 un bel esemplare di pecora chi ha cammino la pecora scherzo peco a camisano che è? ricissimi devo capire cosa devo fare come devi capire ma paura che il video finisce qui no 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 è muovita allora andrà finito allora ragazzi ci vediamo stavo dicendo ci vediamo al prossimo video lasciate la aia lasciate like iscrivete andate a seguirmi su tiktok mi chiamo bigmati9 no bigmati bigmati mati 9 allora ve lo dico adesso lasciate like iscrivetevi al canale condividete questo video e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao